Dopo il no incassato qualche giorno fa dalla Reggiana, nonostante il periodo di prova sostenuto con i Granata, ha trovato una sistemazione definitiva il centrocampista Francesco Favasoli, classe 1983. La Cavese, formazione di Serie D, ha infatti comunicato di averne acquisito le prestazioni sportive. Favasoli, reduce dall'esperienza nelle file della Vibonese, ha accettato di tornare a giocare tra i dilettanti dopo gli esordi di Locri nel campionato 2001-2002, e lo farà indossando la maglia i cui colori aveva già difeso per due stagioni e mezza in Serie C1. Con la Cavese, ha infatti già collezionato 73 presenze e 8 gol tra il 2008 e il 2010.